L'idea della provincia è quella di valorizzare l'eremone di Santa Caterina anche attraverso la possibilità di rendere alcuni locali al pian terreno come museo di arte sacra perché lo potrebbe caratterizzare perfettamente, si inserisce perfettamente nelle strategie che provincia sta portando avanti per valorizzare il territorio. Quello è un luogo importantissimo perché abbiamo un'affluenza veramente importante tutti gli anni e valorizzarlo permette, visto anche i lavori precedenti fatti dalla provincia, dall'ascensore a vari interventi di manutenzione straordinaria, credo che sia giunto il momento di fare anche un intervento ulteriore che è quello di permettere all'eremone di essere usufruito un po' tutto l'anno. Come dicevano giustamente chi attualmente gestisce l'eremone viene visitato soprattutto nel periodo primavera e l'estivo e quindi anche nel periodo invernale se noi riuscissimo a creare uno spazio dove organizzare mostre di livello e di spessore internazionale secondo me potremmo avere sempre di più sviluppo e attenzione, quindi questo è l'obiettivo di provincia.